E continuiamo a parlare di musica e lo facciamo raccontandovi di uno spettacolo davvero da non perdere in scena al teatro Trianon Viviani di Napoli il prossimo 18 febbraio. Sto parlando di A file voce, l'opera che oggi raccontiamo insieme al nostro protagonista assoluto. Oggi con noi è a mattina live il buongiorno a Canio Loguercio. Buongiorno. A file voce, a file voce, sottilissimi quindi. Possiamo definire lo spettacolo un viaggio lento fra amore e memoria. Protagoniste sicuramente le canzoni più famose del tuo repertorio e anche altri inediti tratti dall'ultimo album live. Ma come nasce quindi l'esigenza di questo concerto? A file voce è innanzitutto un lavoro che si basa appunto sulla mia voce. Una voce che a volte dico in maniera anche eccessiva vorrei che si avvicinasse sempre di più al silenzio per sentire di più forse in maniera anche più forte e intensa il profondo senso della lingua napoletana. Io sono un ammiratore sfrenato della lingua napoletana. Pur essendo lucano, ecco in questi giorni ci sta questa diatriba fra la nostra piccola Angelina che ha vinto Sanremo e il napoletano Giollier che è arrivato secondo. In realtà la cultura napoletana entrì su tutto il sud e non solo diciamo e credo che la lingua napoletana sia fra le più interessanti e le più amate nel mondo. Io con questa passione sfrenata per questa lingua da quando mi sono trasferito dalla Lucania qui a Napoli ormai tanti anni fa ero bambino ho cominciato ad amare questa lingua, ad apprezzarne il profondo senso, anche tutta la fonetica eccetera. Questo mi ha portato a scrivere in napoletano, mi occupo di musica da tantissimi anni, le mie formazioni sono state tante, vengo dal rock, il pop, il funky, poi con le mie canzoncine così scritte a file voce qualche anno fa ho vinto la Targa Tenko per le migliori canzoni italiane scritte in lingua dialettale e ho avuto un riconoscimento più che a me diciamo credo che abbia avuto un riconoscimento appunto di una ricerca su questa lingua. Da lì questo amore mi ha portato a comporre il napoletano e a misurarmi qualche volta in maniera, lo dico così, con molto timore anche con alcuni classici della canzone napoletana e spero che diciamo che i napoletani veri, quelli che amano la canzone non ne abbiano contro di me, anzi vengano a sentirmi e magari mi giudichino dopo averle sentite queste canzoni. Cagno non sarai solo sul palco perché con te ci sono Giovanna Famulari al violoncello, Bruno Zoya al contrabbasso e Massimo Antonietti, che atmosfera si crea quindi in scena? Ma questo sul palco riproponiamo quello che abbiamo fatto nel disco, ci siamo visti un giorno in un casale, in una campagna e abbiamo cominciato a suonare in maniera pacata diciamo così, come come sarà questo concerto, non ci saranno ospiti speciali, non ci saranno effetti luminosi, ci saranno soltanto appunto una musica senza ritmica tra l'altro, quindi abbiamo un violoncello, una chitarra classica e un contrabbasso, musicisti straordinari, inutile che qui lo dica, che danno appunto corpo a questa mia voce sussurrata e quindi c'è un'atmosfera diciamo molto rilassata ma anche molto credo anche molto gradevole e divertente perché poi in fondo su questo registro un po' ci scherziamo su anche. Fate anche un po' di ironia quindi. Assolutamente sì, come dire, che mondo triste senza ironia. Certo. E poi come dire quando uno fa delle cose, la prima, credo che il primo punto di vista che debba avere sulle cose che uno fa è quello di guardarsi dal di fuori e scherzarci anche un po' perché poi prendersi troppo su serio a volte può essere anche di cattivo gusto. Sullo sfondo di questo concerto un paesaggio immaginario, cosa vuoi trasmettere maggiormente quindi al pubblico con queste canzoni? Diciamo che appunto i paesaggi che si incrociano sono due. Uno è un paesaggio che definirei come dire storico-geografico, è una storia che racconto di un viaggio quasi immaginario che si svolge in questo nostro sud, fra la Basilicata, Napoli, il resto del sud, atmosfere mediterranee, eccetera. E poi un viaggio interiore. Cioè io appunto al fatto che ognuno di noi possa dentro di sé, come dire, approfondire attraverso un filo di voce appunto quel sentimento recondito che magari è difficile che venga fuori senza un attimo di pausa. Quelli che adesso fanno yoga, eccetera, insegnano molto a lavorare sulla respirazione. E io non ne sono capace, non arrivo a questi livelli diciamo di approfondimento. Ma è un mio desiderio quello che ognuno di noi possa nel proprio silenzio scoprire un po' se stessi. Quindi a filo e voce nasce, come hai ben detto, come progetto completamente acustico senza ritmica in cui tu proponi ovviamente il tuo personale approccio alla musica, alla cultura napoletana. Ma se dovessi esprimere con un solo concetto che cosa rappresenta per te la nostra musica? Per me è un'arma di seduzione di massa, è una forza incredibile ed è di una profondità che va oltre stesso la parola e il significato perché anche nell'aspetto fonetico linguistico diciamo del suono, c'è stata una discussione a proposito di Sanremo appunto anche sulla fonetica, sul modo di scrivere, beh quel suono della canzone napoletana è unico al mondo ed è sufficiente a comunicare appunto un mondo che c'è dietro. Quindi Lucano d'origine ma partenopeo d'adozione. In cosa ti senti più Lucano e in cosa più partenopeo? Ieri ne parlavo con un mio amico, quando si arriva in Basilicata da Napoli a un certo punto il cielo si ingrigisce, diventa tutto perché la Basilicata è una regione che sta un po' più in alto, più fra le colline e le montagne, li nevica, fa freddo d'inverno e poi c'è un silenzio, appunto c'è quel silenzio gelido perché tira un vento molto gelido che credo sia estremamente formativo per noi ragazzi che veniamo da lì e impariamo subito ad amare appunto questa solitudine interiore che ci portiamo dietro per poi arrivare a Napoli e scoprire il sole, la vita, la gioia ma anche qui, come dire, una storia millenaria che trasuda dalla propria lingua. Insomma, che dire, noi Lucani siamo cresciuti col mito di Napoli e credo che Napoli lo meriti tutto, diciamo, assolutamente. Canio, allora ricordiamo ancora una volta insieme l'appuntamento per il 18 febbraio al Teatro Trianon Viviani di Napoli con Affilevoce. Sì, alle ore 20, quindi non tardissimo, in modo tale che poi ci si può andare a fare una pizza lì al Trianon, ce ne sono tante. Bene, grazie per essere stato in nostra compagnia stamattina, Mattina Live, Canio Loguercio, piccolo break, rimanete con noi.